Continua la lotta a tre per la promozione diretta nel campionato di terza categoria nel girone C con Conflenti, Marca e Belvedere che vincono le rispettive partite e mantengono le posizioni 39 punti per Conflenti e Marca, 36 punti per il Belvedere e quindi quando mancano quattro partite alla fine c'è ancora la possibilità di giocarsi appunto questa prima posizione tra le tre squadre ormai dovrebbe essere uscito fuori da questa lotta il Mach 3 che è stato sconfitto proprio dal Marca in trasferta e quindi resta a 32 punti, quindi sono 7 i punti di distacco ormai dalla vetta della classifica anche l'Escalibur si avvicina a 30 punti e potrebbe coltivare ancora la speranza di disputare uno dei playoff anche se sappiamo che i playoff in questo caso sarebbero soltanto due, le vincenti andrebbero direttamente in seconda categoria ormai non dovrebbe più farci il girifalco sconfitto nell'anticipo di sabato a Belvedere per 4 a 2 e quindi resta un altro anno nella terza categoria con la speranza che anche qui si risolva il problema tra le due squadre di girifalco perché abbiamo questa di terza che si barcamena a centro classifica l'altra che deve lottare in prima categoria per non retrocedere e quindi è un po' una storia vecchia questa di girifalco con due squadre che non riescono tutte e due ad emergere Grazie